bentornati scrutatori e curiosi del cielo eccoci arrivati a giugno ed eccoci arrivati al solstizio d'estate precisamente il 20 del mese quando le ore di luce saranno massime quelle di buio minime per una tipica osservatrice situata a dozzano delle miglia il sole sorgerà alle 5 e mezza e tramonterà addirittura poco dopo le 9 di sera avremo a disposizione quindi poche ore da dedicare al cielo notturno ma faremo il pieno di sole e tanto per iniziare il mese la luna sarà nuova il 6 di giugno al primo quarto il 14 del mese luna piena il 22 giugno e all'ultimo quarto il 28 del mese ed è proprio nella prima decina di giorni quando la luna non rischiara il cielo che si potrebbe andare alla ricerca di una categoria di oggetti particolari gli ammassi globulari in questo mese solo per limitarsi ai più brillanti catalogati da messier se ne vedono ben 27 sopra l'orizzonte gli ammassi globulari sono tra gli oggetti più affascinanti anche da osservare con telescopi modesti sono ammassi di stelle di forma sferica molto compatti formati da circa 100 mille milioni di stelle circondano le galassie solo intorno alla nostra se ne contano circa 150 sono formati da stelle vecchie addirittura la loro età è simile all'età dell'universo intorno alle galassie sono distribuiti come una nuvola pressoché sferica in cielo sono concentrati intorno alle costellazioni del sagittario dello fiucco e dello scorpione e perciò ben visibili durante l'estate ma già da questo mese possiamo godere della loro presenza osservandoli al telescopio o alcuni di essi come m13 anche con un binocolo in questo periodo ci si può concentrare ad osservare gli ammassi a declinazioni più alte come m13 facile bello e risolvibile in stelle con un telescopio di 20 centimetri diametro mostrando al meglio la sua forma sferica m92 sempre in ercole ed m3 nei cani da caccia già da questo mese saranno ben posizionati in cielo per l'osservazione anche m12 m10 m62 ed m92 ma si diamo uno sguardo alle principali costellazioni visibili in questo mese prendendo come riferimento la mezzanotte verso sud e bassa sull'orizzonte ben visibile la costellazione dello scorpione con la stella rossa antares e a sinistra il sagittario con l'asterismo tipico a forma di teiera alzando lo sguardo verso lo zenith saranno ben riconoscibili lo fiuco la corona boreale ed ercole verso sud ovest il boote e la vergine più bassa sull'orizzonte indirizzandoci verso sud est sarà ben visibile il triangolo estivo formato dalle stelle altair deneb e vega con le corrispettive costellazioni dell'acquido del cigno e della lira a nord e ben alta in cielo ma poco riconoscibile volteggia la costellazione del drago situata tra il cigno e l'orsa maggiore e infine cassiopea sempre a nord ma bassa sull'orizzonte rimanendo coi piedi per terra si fa per dire naturalmente vediamo gli eventi di questo mese che interesseranno gli oggetti del nostro sistema solare tra i pianeti principali marte si può timidamente osservare poco prima delle luci dell'alba è rintracciabile dopo le 4 del mattino e prima del sorgere del sole a est la sua visibilità aumenterà col passare dei giorni del mese giove sarà visibile soltanto a partire dalla fine del mese basso sull'orizzonte verso nord est sempre prima del sorgere del sole il 2 e il 3 del mese sempre al mattino e verso est la luna con una sottilissima falce sarà piuttosto vicina a marte entrambi bassi sull'orizzonte potrebbero fornire ottimi spunti per fotografia di paesaggio astronomico saturno invece sarà più visibile in cielo sorgendo a l'est dopo luna di notte purtroppo per chi ha un telescopio i suoi anelli saranno poco appariscenti perché appariranno quasi di taglio il 27 il 28 di giugno la luna al quarto calante sarà prospetticamente vicina al pianeta con gli anelli da osservare intorno alle 3 del mattino per questo mese tutto buone estate buone osservazioni pronto sono la tipica osservatrice da ozzano dell'emilia ma l'allineamento del 3 giugno sono la tipica osservata